Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Corretanke e questo è un nuovissimo video che faccio questa volta nei minigames di Minecraft. Sono tornato con i minigames, finalmente! Allora, oggi porteremo le build battle e come potete vedere mi sono trasferito su iPixel. Perché prima, se vi ricordate da questi video, perché ce ne sono due, schiacciate la i che è qua in alto, io giocavo su un server italiano. Era bello perché potevi comunicare con le persone. Però c'era poca gente e allora ho deciso di trasferirmi su iPixel per poter giocare con la massa. Oggi giocheremo, come vi ho detto, alle build battle, ma rispondetemi al sondaggio che vi metto qua sopra dicendomi se volete che porti un altro tipo di minigames, che possono essere le bad wars, che possono essere le sky wars, anche se non ci ho mai giocato, e io mi eserciterò e poi ve lo porterò. Oppure, se c'è qualche altra modalità che vi può interessare, scrivetemelo nei commenti. Ma ora iniziamoci, vediamo alla scelta della build battle. Ed eccoci qua! Allora, builder, spy, skatepark, alien o trampolino? Uh, trampolino mi può interessare. Può essere una cosa divertente. Io ho votato per quello, tutti hanno votato per quello praticamente, quindi che trampolino sia. Allora, iniziamo facendo una piscina, molto semplice. La facciamo con questi blocchi qua. Via! Una piscina che non sia troppo grande, in modo da non dover fare una costruzione gigante. E la piscina è questa. Ci mettiamo l'acqua. Perfetto. E adesso costruiamo il nostro trampolino, che sarà fatto di ferro, partirà da qua e salirà in alto. Adesso mettiamo le slab e lo portiamo verso di qua. E questo sarà il nostro primo trampolino. Dopodiché ci sarà un secondo trampolino, ragazzi miei, che si sposta sempre qua in mezzo e ti butti. E poi dopo facciamo il terzo trampolino, da più in alto ancora. E poi dopo, dopo aver fatto questi trampolini qua, ci metteremo ovviamente le scale. Ecco qua i nostri trampolini. Dopodiché mettiamo le scale. Non è stupendo, ve lo dico. Però intanto è qualcosa. Sono dei trampolini, come si deve. Sali qua, vai qui e poi ti tuffi. Possiamo allargare un pochino la piscina, volendo, in modo che non sia troppo piccola. Ragazzi, non è molto sofisticata, mi rendo conto questa costruzione. Quindi devo inventarmi qualcosa per fare in modo che surclassi gli altri in bellezza. E ho solo un minuto per farlo. Magari ci possono essere delle persone piccoline, che creo, che si tuffino. Però è difficilissimo da farlo in così poco tempo. Di conseguenza non so se ce la farò. Vediamo. Ci provo. Queste sono le gambe. Le gambe. Il corpo. No, no, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Vabbè, questa è la costruzione, ragazzi. Non ce l'ho fatta perché ci vuole troppo tempo. Oh, è subito il mio. Mettete Epic, ragazzi. Vediamo cosa stanno votando. Good, good. Ok. Legendary no, esagerati. Mi sembra carino. Anche questa è una idea interessante, ragazzi. Anche perché si rimbalza. Esattamente. Quindi gli metto un ok. Qua c'è pure la persona. Però non è completo il trampolino stesso. Gli metto anche lui ok per la... No, non l'ho fatto in tempo. Questo si rimbalza? Si rimbalza. Mi sembra carino. Ok anche a lui. Ci sta. Questo cos'è? Gli alberi sono fatti di trampolini. Non ho votato, ma l'ero stupito. Ecco, questo è un bel good. È molto carino. Bisogna votare imparzialmente, ragazzi. Vuoi? Per quanto si rimbalzi non assomiglia a un trampolino. Gli metto poop. Comunque, io sono abbastanza soddisfatto della mia idea anche perché come vedo nessuno l'ha fatto. Cos'è sta roba? Pup. Non è un trampolino. Pup. È brutto. Dicevo, la mia idea non l'ha fatta nessuno. Anche il mio è un trampolino. Un trampolino olimpionico? Sì. Tutti hanno fatto questa idea con le persone che saltano. Queste con i letti. No, anche questo poop. Mi spiace. Pian piano sta scendendo la qualità delle costruzioni degli avversari. Questo omino è deforme. Sembra gollum. Però gli do un ok perché chiaramente l'idea c'è. Ecco. Questo è un super poop. Comunque, io farò un'altra build battle. Subito dopo questa. Sperando che possa andare bene. Ma questo è stato il migliore. Sono arrivato. Non l'ho visto. Vabbè. Facciamo subito un'altra, dai. Allora, vediamo. Milk. Sì, hanno votato tutti i milk. Ne votiamo anche in ogni... Ah no, ok. Dollhouse. Pool. Stamp. Ghost. No, va bene milk. Va bene milk. Posso pensare a qualcosa da fare. Che dite? Magari posso fare... No, al milk. Stavo scherzando? Cos'è stato fatto? Pool. Pool, ancora. Vabbè, farò una grande piscina come prima. Praticamente si tratta tanto di piscina in questo caso. Quindi che cosa faccio? Una piscina olimpionica. Questa sarà la nostra piscina, ragazzuoli. Spero che venga bene. In questa riga qua in mezzo metto una striscia nera, che sarebbe i separatori che ci sono in piscina. Vediamo. Calcestruzzo nero. Questo me lo fa usare? No. Perché non me lo fai usare? Lana nera? Devo usare la lana, davvero? Sotto acqua? Va bene. Usiamo la lana. Spero che l'idea verrà apprezzata, perché alla fine le piscine devono essere così. Vai, 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 vai. Siamo di corsa. Siamo sempre di corsa nelle build battle. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su per l'impegno che ci sto mettendo per fare queste cose, che praticamente sono tutte che c'entrano con la piscina. Cioè, sto pensando già al titolo che ci metterò, perché sarà qualcosa Love the Pool, qualcosa del genere. Poi vedo, perché adesso sono troppo impegnato a costruire la mia piscina. È il momento dell'acqua. Acqua ovunque. 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 Bam. Fatto. La mia piscina olimpionica è pronta. E ora il coso per i trampolini. Ci siamo ragazzi. Mi piace la mia piscina olimpionica? Non ho una lastra che sia più carina, no. Poi ne facciamo un'altra che sarebbe quella dei bambini, no? E anche questa è fatta. Però vediamo se riesco a farne un'altra ancora. E questa volta la faccio tipo a mo' di fontanella. Allora, mettiamo l'acqua ovunque con l'acqua che scende da qua. Secondo me è carina, dai. Ah, subito la mia. Facciamo Legendary. Mi piace ragazzi? Dai, è carina oggettivamente. È una piscina olimpionica. Che dite? Ok. Anche questa è una piscinetta però un po' scarna. Si è impegnato poco. Io gli do un poop. Speriamo almeno di arrivare tra i primi questa volta. Ecco, già questa è carina. Già questa è carina. L'ha fatta in legno con tutte le sdraio. Saranno sdraio. Carina, dai. Ci sta. Questa no. Questa è molto... Beh, è uguale a quella che ho fatto io. È uguale a quella che ho fatto io prima. Però bisogna essere onesti. Gli do un ok. No. Questa è troppo bella per essere vera, dai ragazzi. Good. È davvero bella. Secondo me quello che ha fatto questo è lo stesso che ha vinto prima, ve lo dico. Perché era molto simile allo stile. Anche questa è carina. Quindi gli do un ok. Con la fontanella che scende qua. Devo dire che non mi aspettavo ma si sono spizzariti abbastanza qui. Questo è un super poop però. Cosa c'è? Una voragine in mezzo alla piscina. Questo normale. Però non si è impegnato neanche lui tanto. Questa com'è? Carina. Se non fosse per questa mini voragine. Gli do un ok. Ci sta. Questo ha capito male. Ha fatto un tavolo. E gli do un super poop. Io non gli sento i rumori che fanno. Tipo miau. Ah carino. Sono arrivato terzo. Bam. Terzo. Onesto dai. Questo era auspicabile che avrebbe vinto. È troppo bello. Non so come abbia fatto a farlo perché sinceramente c'era pochissimo tempo. Quattro minuti sono pochi. Però è stato davvero bravo. Comunque ragazzi. Io vi dico che la puntata si conclude di qua. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto. E iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Sto uscendo dal server. Vero? Ok sì. E mi raccomando. Votate nel sondaggio. Cosa volete che porti. O scrivetemelo nei commenti. Vi auguro una buona continuazione. E ciao ciao belli. Ciao ciao. Ciao ciao.